Gentili telespettatori, buona giornata. Questi mi fanno veramente troppo redere. Con Cittade Gregorio e David Parenzo, messi obbligatoriamente insieme a fare un programma televisivo che parla di politica. Lei, ex direttrice dell'Unità, oggi penna, come si dice oggi, oggi penna di Repubblica. Mi fai du penne alla carbonara. No, penna di Repubblica significa che scrive su Repubblica. Quindi passa dall'Unità a Repubblica. Potete immaginare il tipo di faziosità che ha questa giornalista. È un po' come l'Annunziata, un po' come la Gruber, Lilli Gruber. Non so chi è più faziosa tra Con Cittade Gregorio e Lilli Gruber. Bisognerebbe fare una competizione. Bisognerebbe fare una finalissima. Bisognerebbe metterle tutte e due vicine, intervistando Salvini per vedere chi è più faziosa di sinistra. Beh, è una bella competizione. Sarebbe una puntata di successo. Immaginatevi, Con Cittade Gregorio e Lilli Gruber contro Salvini e Meloni. Fantastico. Naturalmente hanno più carisma Con Cittade Gregorio e Lilli Gruber di Enrico Letta, Di Maio, Conte. Ecco, secondo me Con Cittade Gregorio e Lilli Gruber dovrebbero fare i capi politici. Una del PD e l'altra di un altro partito. Non vi dico i 5 Stelle perché quelli non sono un partito. Pertanto adesso questa coppia con Cittade Gregorio e Parenze fa scintille perché lui cerca di fare una sorta di programma un po' simpaticone, con la battuta. Un po' tipo un programma semiserio. Ecco, invece lei vuole fare un programma serio e non vuole che lui dica sciocchezze o che la metta sul ridere. Ecco, a lei non piace che Parenzo la metta sul ridere. Ma Parenzo, questo programma lui c'era già. E con Cittade Gregorio che è arrivata. Parenzo, in questo programma lui già con l'altro, Telese, facevano una sorta di trasmissione così, sul simpatico andante, tra virgolette, insomma. Non so a chi potevano essere simpatici questi due, però loro la buttavano sul simpatico. Lei vuole fare la trasmissione seria. E più di una volta ha zittito e rimproverato David Parenzo, dicendogli tu non puoi, lascia parlare il sindaco, oppure non ti permettere a dire delle cose così. Insomma, chi ti dà l'autorità di zittire un co-conduttore come te? Nel senso, io in un altro video avevo fatto una parentesi dicendo che ci sono molte persone, che io ho conosciuto anche, che cercano di essere simpatiche e quando cercano di essere simpatiche gli viene fuori decisamente male e offendono. Io ho una parente, una bravissima persona, che però quando cerca di scherzare, lei che mi piacerebbe scherzare come gli altri, quando se lo impone, offende gli altri senza rendersene conto. Forse questo è il caso di Concita De Gregorio. Magari una giornalista che vuole essere simpatica come David Parenzo prova a essere simpatica e gli riesce decisamente male. Non lo so qual è il caso, ma così adesso lui sta cercando di reagire. Quindi David Parenzo oggi fa lo sgarbo a Concita De Gregorio, ma lei lo ignora, no? Quindi presenta gli ospiti uno a uno e alla fine dimentica la collega conduttrice che lo guarda dispettita. David Parenzo prende la parola per primo appena parte la trasmissione in onda sulla 7, che conduce in tandem con la giornalista Concita De Gregorio. Siamo al 6 di luglio, la puntata del 6 di luglio, quando il conduttore saluta i telespettatori e inizia ad elencare salutandoli gli ospiti uno ad uno. In studio c'è anche la dottoressa Silvia Bonvicelli e in collegamento da casa del virologo Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Dopo averli presentati vorrebbe iniziare la puntata, ma si ricorda di non aver nominato né salutato la collega in apertura del programma. Scusa Concita, ci sei anche tu. E povero Parenzo, a un certo punto sta cercando di riprendersi, nel senso lei dice questa signora è abbastanza maleducata con me, allora a quel punto uno deve poi rendere pan per focaccia, perché se tu la metti sempre in maniera gentile e gli altri non capiscono e cercano di schiacciarti, alla fine anche il giornalista più bonaccione del mondo deve difendere la sua personalità giornalistica nel programma. Pertanto dice Parenzo, scusa Concita ci sei anche tu, esclama, e poi cerca di giustificarti, perché sei ultima. e Concita De Gregorio hai dulcis in fondo, dice il giornalista. Lei lo guarda seria, assolutamente non divertita, e con un sorriso di circostanza dice no, figurati, va benissimo. E' fantastico perché questi due mi sembrano un po' la Berlinguer e Corona agli inizi, poi volemose bene, ci hanno diviso in Rai, si sono rincontrati, ma questi due non lo so, realmente non lo so quanto possono andare avanti così, o magari in questo modo involontario, in questo modo involontario, realmente qualche ascolto lo prendono in più. Ecco, perché ricordiamoci che i programmi di politica sono seguiti, in Italia la politica è seguita perché è teatrale, però naturalmente ci sono tanti programmi di politica, ci sono più programmi di politica che Grandi Fratello, ecco perché il programma di politica costa poco, non devi spendere chissà quale soldi e non devi chiamare chissà quale attore, basta chiamare i politici e loro sono degli attori nati, divertenti, ridicoli, molto spesso, pertanto però il programma di politica per essere ancora più accattivante deve comunque cercare di avere qualcosa in più dell'altro programma di politica e allora si contendono corona dalla berlinguerra, del debbio, perché se tu inserisci qualcosa di divertente in più, la gente guarda in più il tuo programma rispetto agli altri e guardate che tra programmi di politica, fra tutte le televisioni, c'è una guerra di audience, ovviamente, qual è il primo programma di politica, la berlinguerra che ascoltià, l'ha annunziata, annunziata quali ascoltià, e Fazio, e Giletti, naturalmente c'è poi una competizione tra qual è il conduttore più pagato nell'ambito del giornalismo politico, è così. Ovviamente, attenzione che la competizione sull'audience è una competizione sugli stipendi, più audience, più pubblicità costose, più pubblicità costose e più guadagna la rete televisiva, e più guadagna la rete televisiva, il prossimo contratto te lo deve alzare, te lo deve alzare se tu hai degli ascolti in crescita, se hai degli ascolti in discesa, ti cancellano anche il programma e ti dicono Auf Wiedersehen Goodbye, arrivederci e senza neanche grazie. E quindi capite perché c'è la guerra agli audience e questa involontaria scenetta tra la De Gregorio e Parenzo potrebbe portare realmente a qualche ascolto in più, in maniera involontaria. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.